il difensore bene qui il difensore ha chiuso la linea di passaggio ecco il tiro attenzione ha provato di prima e ha trovato un gol stupendo ah come si è coordinato, meraviglioso ha lasciato andare bene la gamba ha trovato il colpo giusto ecco il gol vediamo anche da quest'altra angolazione grazie a tutti grazie a tutti